Siamo qui, stiamo facendo spaghetti, salsiccia, zafferano e pecorino. Siamo quasi alla conclusione di questo fantastico piatto che andrà assaggiato a breve. Ora andiamo a dare l'ultima schiamata ragazzi, dobbiamo girarlo per benino. Mi può inquadrare il piatto? Eccolo qua. Abbiamo questo fantastico brodo di spaghetti, salsiccia e quindi zafferano. Andiamo a inserire il pecorino che dobbiamo trovare qui. Un pochino va inserito in fase di cottura che saporisce questa fantastica delizia. Eccolo qui, quadrate gentilmente la pentola. Olè! È la padella. La padella va bene, ci perdoni. Siamo qui. Questo fantastico piatto insaporito. Eccolo, eccolo. Notare la maestria nel girare. Va a capovolta. Non si fa saltare. No, non lo faccio saltare perché c'è il brodo ragazzi. Eccolo qui. Abbiamo alzato la fiamma da poco, ricordiamolo. La bassa fiamma. Si mescola il tutto così. Eccolo. Eccolo qui ragazzi. Abbiamo questo fantastico piatto. Perché ha levato il brodo dalla tempra. Va bene. Non si fa mai affari suoi. Ancora l'alcol si lo rimette. Ricordiamo che abbiamo messo l'alcol. E benvenuti a questa puntata di cotto e straziato. Si fa vaporizzare un pochino questo zucchetto che va via. Ed è pronto ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Abbiamo vinto. Attenzione. Questo fantastico piatto. Andiamo di nuovo a mettere un po' di pecorino. Oh. Oh. Mi inquadra il piatto gentilmente. Mi inquadra il piatto e si spenge. Ed è pronto ragazzi. È pronto. Chef Renzo. Arrivederci alla prossima puntata.